buongiorno buongiorno e buon sabato 25 aprile 25 aprile 1999 io seguo partita dopo partita ricordando lo scudetto del 99 il 25 aprile giornata particolare di particolari emozioni perché il milan per 20 minuti come titolo a forza milan supera la lazio perché segna subito birov la lazio stenta con il la sandoria e quindi il milan per 20 minuti è là in testa la classifica poi la lazio segnerà nel milan raddoppierà il gol di birov leonardo io ricordo una grandissima parata vi dico anche su chi su un giocatore del vicenza e otero mi sembrava otero guardato sul mio caro forza milan grande parata di abbiati solito incommensurabile decisivo abbiati suo tero e poi il milan vince 2 a 0 e mantiene il distacco di un punto quindi un'altra delle partite emozionanti di quello scudetto del centenario veniamo all'attualità sapete che ieri ho letto il riletto ho letto il riletto ieri è stata una giornata particolare alle 10 e mezza mi sono messo là a guardare il triangolare con slatan ibraimovic avevo già visto io los angeles contro los angeles quando dicevano ibraimovic non è più in grado di giocare il campionato italiano ho visto un bel ibraimovic oggi ho visto un bel ibraimovic bello tonico bello in forma bello sudato e ieri è stato veramente uno spettacolo uno spettacolo perché oggi ibraimovic possiamo dire che è il giocatore più in forma del campionato perché è l'unico che si è allenato sul pallone e proprio lo si vedeva sia nel primo tempo ieri quando giostrava davanti quando poi intelligentemente si è messo dietro ma poi ha realizzato il solito gol ha sfiorato il solito palo solito grande zlata libra supremasi invincible libra come il mio nuovo cavallo però io ieri mi sono divertito mi sono ho registrato la l'intervista finale sempre su su streaming e poi me la son fatta tradurre parola per parola da un'amica di un amico svedese quindi un mio amico aveva un'amica svedese e ha fatto mi ha fatto mandare la traduzione io onorerò il contratto con il milan che scade virgola se scade mi sono riempito a voglia ancora di giocare che scade virgola se scade a me anche ieri mi hanno detto guarda stai attento guarda che c'erano dei bonus importanti ma secondo me mi dice qualcuno si parla con colleghi io tenderei che quel contratto di sei mesi poi alla fine fosse di 18 la verità è che la verità è che ancora in ballottaggio il discorso dell'allenatore che io continuo a pensare sia Ragnic lasciatemi questa convinzione che magari mi sbaglierò io mi presento io credo che sia la decisione sia stata presa vediamo nonostante altre altre idee io penso che il signor Ragnic non abbia ancora messo la testa completamente proprio per deontologia sul progetto ma se dice questa cosa Zlatan Ibrahimovic vuoi che non abbia già parlato con Gazzidis con l'allenatore in pectore o con l'allenatore che sarà che potrebbe essere ancora e non lo escludo Pioli anche se per me è favorito Ralf Ragnic perché questa frase se scade dice tanto dice tanto sulla sulla non sicurezza che aveva qualcuno non gioca smette 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 intanto oggi ha detto che ha voglia di giocare ancora smette lascia il Milan lascia il Milan e io vi ho sempre detto non ci sono certezze ma qua e infatti poi dopo questo punto lui ha detto non ho ancora deciso se voglio giocare e già non era smetto oggi ha detto voglio ancora giocare e c'è un contratto che scade se scade che scade io mi unisco ai tanti tifosi del Milan costruiamo una squadra forte però teniamo questo punto di riferimento è un faro per i giovani per i tanti giovani che arriveranno per gli esperti che arriveranno e poi un allenatore intelligente non costruisce una squadra secondo i suoi dettami ma se ha dei giocatori importanti li esalta li esalta non li svilisce se un allenatore è completo è un allenatore intelligente vediamo ma la frase me la sono letta tanto ieri me la sono letta tante volte io ho un contratto con il Milan che scade se scade se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale youtube di Carlo Pellegatti se scade